La Campania tradisce Renzi, Salerno tradisce De Luca. La terza regione italiana considerata decisiva in questo referendum, sia per percentuale quanto per voti assoluti, ha dato il suo consistente contributo al no. In termini complessivi, il risultato finale in Campania è di 68,52% di no contro il 31,48% di sì. Il risultato è che si declina nelle cinque città capoluogo. A Napoli il no arriva al 68,3%, anche se il numero di votanti è nettamente al di sotto della media nazionale. Ma quello che sorprende è il dato di Salerno, che volta le spalle al governatore De Luca, esprimendo il 60,1% di no. Anche Avellino si attesta sulle stesse percentuali, mentre il no esplode a Benevento, abbattendo la soglia del 70%, 65,8% a Caserta. De Magistris si rafforza politicamente e si conferma leader degli antisistema, preparando forse il terreno per una sua prossima discesa in campo alle politiche. Napoli da oggi è più forte, ha detto, ha vinto il popolo. A Renzi, definito lo stalker autoritario, e a De Luca, con i quali la contrapposizione è stata forte e feroce in questi mesi, questa mattina il sindaco di Napoli ha consigliato un bagno di umiltà. A chi verrà dopo Renzi il compito di riunificare il paese, ha detto De Magistris, intorno ai valori della Costituzione. Intanto, il presidente della regione, che si è speso in prima persona, mettendo in campo anche il figlio Piero, come coordinatore del Comitato per il Sì, subisce una sconfitta politica senza precedenti. Lontani i tempi del plebiscito bulgaro, anche ad Agropoli, la cittadina delle fritture, su cui è scivolato De Luca alla vigilia del voto, il no ha raggiunto quasi il 70%. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.